Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città e buon mercoledì 18 aprile. Giornata dal tempo decisamente incerto, quella di oggi, ci siamo svegliati con la pioggia, una pioggia anche abbastanza intensa in alcuni punti della città, poi è spuntato il sole, adesso siamo intorno a mezzogiorno, abbiamo un cielo sostanzialmente sereno ma con qualche nuvola. Oggi sarà più o meno così tutta la giornata, quindi con un'alternanza di pioggia, nubi e sole, un miglioramento ci sarà verso sera ma poi per peggiorare nuovamente nella giornata di domani quando è attesa ancora della pioggia. Comunque le temperature massime per la giornata di oggi saranno intorno ai 10 gradi circa. Vediamo alcune notizie di viabilità partendo con le segnalazioni relative agli autovelox che oggi sono molti, li trovate sui corsi Grosseto, Trapani, Giulio Cesare, Tazzoli, Francia, Vercelli e Casale, sul lungo Stura Lazio e su via Botticelli. Vi ricordo che sono attivi anche fino a sabato i controlli con telecamere nelle vie Tripoli, Nizza, Genova e sui corsi Sebastopoli, Traiano e Cosenza. Ultima segnalazione di viabilità per oggi, un divieto di transito in via Principessa Clotilde fino alle 19.30 di questa sera tra via Bonzanigo e Corso Principe Oddone per via di alcuni lavori edili. Passiamo a vedere le notizie che trovate sul sito della città a partire dalla prima pagina. La prima riguarda i biglietti omaggio di Torino Giovani perché, come sapete, probabilmente lo Shima Monamour compie 25 anni, un festeggiamento che si svilupperà in tre serate di concerti. Quest'oggi alle 15 sul Facebook, sulla pagina Facebook di Torino Giovani, sono in palio quattro biglietti omaggio per il primo concerto che è quello di domani sera, di giovedì 19, al quale parteciperanno tra gli altri anche Eugenio Finardi, Dente e Vittorio Cane. Per rispondere al quiz bisogna collegarsi alle 15 al Facebook di Torino Giovani, si vince ovviamente un biglietto. Altra notizia che trovate nell'edizione di oggi di Torino Click riguarda il nuovo collegamento aereo tra Torino e Lisbona, un Torino più vicina al Portogallo ma anche e soprattutto all'Africa e all'America Latina perché il volo è operato da TAP, la compagnia di bandiera portoghese che collega il Portogallo soprattutto con l'America Latina e con l'Africa. I voli da Torino saranno fino alla fine di settembre 4 a settimana, il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. Trovate tutte le informazioni sull'edizione di oggi di Torino Click. Infine chiudiamo con una segnalazione relativa ad alcuni possibili disagi nella giornata di domani presso alcuni uffici comunali che sono aperti al pubblico come le sedi anagrafiche, lo sportello unificato del commercio di via Meucci numero 4 e gli uffici aperti al pubblico della divisione Servizi Tributari e Catasto di Corso Raconigi 49. Domani sono previste delle ore di sciopero e delle assemblee sindacali per cui questi uffici non assicurano un regolare svolgimento del servizio. Bene, vediamo adesso alcuni appuntamenti selezionati per voi per questa serata, cominciando da un appuntamento dedicato ai libri alle ore 18, la libreria della Copp in Piazza Castello, ci sarà l'incontro con Bruno Tinti, autore del libro La rivoluzione delle tasse, edito per Chiare Lettere, si parlerà dello spinoso argomento dell'evasione fiscale. Spostandoci al di là della piazza e di un paio d'ore, quindi alle ore 20, al Teatro Reggio, andrà in scena Pinocchio per la rassegna a Reggio in famiglia, per la regia di Luca Valentino, la storia è quella ovviamente del Pinocchio di Collodi, ci saranno il coro di voci bianche del Teatro Reggio e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino con l'orchestra del Teatro Reggio. I biglietti vanno da 10 euro per gli under 16 a 15 euro per gli adulti, vi ricordo che se un adulto compra il biglietto intero può accompagnare gratuitamente un under 16. E chiudiamo poi con il teatro, alle 20.45 al Teatro Carignano, va in scena come succede già dalla giornata di ieri, Non tutto è risolto, uno spettacolo di e con la splendida Franca Valeri che in scena è assistita da Licia Maglietta, Urbano Barberini e Gabriella Franchini per la regia di Giuseppe Marini, una commedia gradevole che potrete seguire con biglietti che vanno da 15 euro per i posti a ridotta visibilità fino a 34 euro. È tutto per quest'oggi, grazie allora per averci seguito, grazie a Paolo Mosso per la messa in onda, a tutti voi gli augurio di una buona giornata.